Tommaso Montanari, dopo il Brancaccio lo Zenit a Perugia. Questa unione a sinistra riuscirà o non riuscirà? Dipende solo da noi e io credo che si debba fare non sulle formule, sui leader, sulle geometrie, sulle formule magiche quasi direi, ma sulla sostanza, sulle cose. Quale idea di paese ha la sinistra, come parla agli italiani, come vuole cambiare la Repubblica, come vuole attuare la Costituzione. Più che continuiamo a parlare in astratto, a ogni riunione di leader perdiamo 20.000 elettori, forse ne sono anche pochi. Dobbiamo ricominciare a parlare delle cose del paese ed è quello che vogliamo fare qui. Se poi su questo progetto di paese ci troviamo tutti d'accordo, ci sarà una lista unitaria che è lo scopo dell'appello del Brancaccio. Grazie. Grazie.